Loro si sono presi cura di te con amore da sempre, ora è il momento di scegliere il meglio per i tuoi cari. Casa Serena, Cava dei Tirreni, si prende cura di loro garantendo sicurezza, qualità e professionalità. Un'altra operazione di contrasto allo spaccio di stupefacenti ha portato all'arresto di un ragazzo nocerino di 20 anni. Domenica sera i carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino hanno sgominato un piccolo punto di spaccio posto nella zona di confine tra l'agro nocerino sarnese e Valle dell'Irno. Il giovane è stato fermato durante un normale servizio di controllo del territorio e durante la perquisizione sono state ritrovate notevoli quantità di droga. Nello specifico i carabinieri hanno sequestrato 63 dosi di crack per un peso complessivo di oltre 10 grammi e piccole quantità di hashish e marijuana. Inoltre hanno rinvenuto un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Il ventenne è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è stato convalidato dal giudice ed ora il ragazzo è stato rimesso in libertà in attesa del processo. L'operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che vede impegnate le forze dell'ordine. La zona di confine tra l'agro nocerino e la Valle dell'Irno è da tempo monitorata dai carabinieri a causa della presenza di diverse piazze di spaccio.